Buongiorno, in questa lezione dedicata alle regioni a statuto speciale si parlerà in particolare delle ragioni della specialità, delle forme della specialità, dell'evoluzione nel corso del tempo delle cinque regioni a statuto speciale e del contenuto della loro autonomia. Le ragioni che hanno spinto la Costituzione ad accogliere l'idea di una specialità con riferimento ad alcuni ambiti territoriali, ad alcune regioni, sono ragioni storiche, ragioni geografiche, ragioni linguistiche, ragioni economiche talvolta. Per contenere le forti spinte autonomistiche che in alcune aree del paese si stavano sviluppando negli anni in cui si scriveva la Costituzione, si scelse la strada dell'autonomia speciale. Le cinque regioni cui viene riconosciuto questo status peculiare si caratterizzano o per essere isole, la Sicilia e la Sardegna, o per contenere al loro interno delle importanti minoranze linguistiche, la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige, oppure per essere delle regioni fortemente segnate dal loro essere regioni di confine, il Friuli Venezia Giulia, che per molti anni condivide un confine esterno con un paese appartenente al patto di Varsavia, la ex Jugoslavia. La tutela delle minoranze linguistiche assume un significato particolare non solo in Valle d'Aosta ma soprattutto in Trentino Alto Adige. La tutela della minoranza tedesca è specificamente oggetto di un trattato internazionale fra l'Italia e l'Austria e come tale viene poi recepita la tutela della minoranza nello statuto di autonomia. La Costituzione italiana viene scritta a cavallo tra il 1946 e il 1947. Più o meno in tutte queste aree del paese però la spinta verso l'autonomia e l'elaborazione di forme talvolta spontanee di autonomia è precedente, o meglio contestuale, ai lavori dell'Assemblea Costituente. Per cui quando la Costituzione entra in vigore nel primo gennaio del 1948, stabilendo queste forme particolari di autonomia per le cinque regioni citate, l'Assemblea Costituente non si scioglie e rimane in carica, fra le altre cose anche con il compito di approvare gli statuti di autonomia di queste regioni. All'inizio del 1948, quindi a Costituzione già in vigore, vengono approvati con legge costituzionale, questo è un elemento importante, gli statuti delle quattro regioni allora effettivamente istituite, il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta, la Sicilia e la Sardegna. Per l'approvazione dello statuto della regione Friuli-Venezia-Giulia bisognerà invece aspettare il 1963, per una ragione storica evidente. È solo del 1954 il memorandum di intesa con cui l'Italia, la Jugoslavia, il Regno Unito e gli Stati Uniti come potenze alleate definiscono la questione di Trieste e del confine fra l'Italia e la Jugoslavia. Solo dopo la soluzione di quella questione viene davvero istituita la regione Friuli-Venezia-Giulia. Anche in quel caso con l'approvazione di una legge costituzionale. L'approvazione degli statuti speciali con legge costituzionale, da un lato testimonia l'importanza di quegli statuti e consente a quegli statuti di derogare alla disciplina ordinaria prevista per le altre regioni dalla Costituzione. Dall'altro lato però è peculiare l'adozione di uno statuto di autonomia, statuto di una regione, con una legge dello Stato, in particolare con una legge costituzionale, la più importante tra le leggi dell'ordinamento. apparentemente quindi queste regioni che hanno un'autonomia più spiccata sono private proprio del potere di darsi uno statuto che è approvato con una legge costituzionale dello Stato. Tuttavia questo tema nel corso del tempo ha perso di importanza in quanto in una certa misura le regioni ad autonomia speciale si sono riappropriate almeno in parte di questa competenza, in virtù della legge costituzionale numero 2 del 2001 con cui si definisce il procedimento per la revisione degli statuti speciali. Si deve sempre approvare una legge costituzionale, ma questa legge costituzionale dovrà essere promossa o su iniziativa dei consigli regionali oppure se promossa su iniziativa parlamentare o governativa dovrà essere comunque sentito il consiglio regionale interessato. Sulla base dell'articolo 116 della Costituzione le regioni ad autonomia speciale dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia. Queste forme e condizioni particolari di autonomia in che cosa si risolvono concretamente? Possiamo riscontrare un'autonomia organizzativa, un'autonomia nell'esercizio di competenze legislative ed amministrative ed un'autonomia finanziaria. Sul piano dell'organizzazione può essere ad esempio interessante vedere qual è la soluzione adottata dallo statuto del Trentino Alto Adige. Il Trentino Alto Adige si compone di due province autonome, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano. Sostanzialmente si tratta di due vere proprie regioni quanto a tasso di autonomia di ciascuna di esse. Ma nella forma abbiamo un'unica regione suddivisa in queste due province autonome, ciascuna dotata di determinate competenze, ciascuna capace di esprimere un consiglio provinciale eletto direttamente dai cittadini di quei territori. Sul piano organizzativo emerge poi una peculiarità unica. I due consigli provinciali si riuniscono congiuntamente per dar vita al consiglio regionale della regione Trentino Alto Adige. Sul piano delle competenze queste regioni hanno fin dall'origine competenze più ampie rispetto alle altre. La loro specialità consiste proprio nell'affidare ad esse maggiori autonomia. Su piano legislativo questa maggiore autonomia è evidente. Alle cinque regioni ad autonomia speciale sono affidate competenze legislative esclusive che nel testo originario della Costituzione del 48 non erano invece previste per le regioni ad autonomia ordinaria. Oltre a queste competenze esclusive le regioni ad autonomia speciale hanno poi competenze legislative concorrenti simili a quelle previste per le altre 15 regioni. Possono però le cinque regioni speciali attingere ad elenchi di materie più ricchi, più corposi e sostanziosi, capaci talvolta di valorizzare le peculiarità di ciascuna regione. Ad esempio si tratta talvolta di materie non importanti ma peculiari. Ad esempio in Valle d'Aosta lo statuto prevede come competenza regionale la valorizzazione dei prodotti tipici. Oppure lo statuto del Trentino Alto Adige prevede la competenza del legislatore regionale in materia di Masochiuso, un istituto giuridico del tutto peculiare proprio di quella regione. Per quanto riguarda il regime finanziario si tratta di uno dei tratti più evidenti della specialità di queste regioni. Regioni che da un lato hanno la possibilità di imporre tributi propri e dall'altro, e qui sta la specialità più significativa, si vedono attribuire la compartecipazione regionale al gettito di alcune imposte statali. Con due soluzioni di tipo diverso. La regione Sicilia, tramite il suo statuto, prevede una ripartizione qualitativa. Alla regione sono assegnati in esclusiva alcuni tributi erariali. Il gettito di alcuni tributi erariali è assegnato in esclusiva alla regione. Per quanto riguarda le altre quattro regioni, invece, gli statuti indicano in modo selettivo quali sono i tributi erariali rispetto ai quali alla regione è affidata una compartecipazione, secondo un tasso che può variare percentualmente, da una percentuale minima fino alla totalità del gettito di quel tributo. In questo quadro di specialità si è inserita nel 2001 la riforma del titolo quinto, destinata principalmente, se non esclusivamente, alla disciplina delle regioni a statuto ordinario. Ma l'estensione delle competenze legislative delle regioni a statuto ordinario, che conseguenze ha avuto sulle cinque regioni ad autonomia speciale. Per quel che riguarda le funzioni amministrative non c'è stato un mutamento. Le regioni a statuto speciale hanno mantenuto il principio del parallelismo fra le loro funzioni amministrative e quelle legislative. In ambito legislativo, invece, si è creata la necessità di adeguare l'autonomia delle regioni speciali al nuovo tasso di autonomia delle regioni ordinarie. Per evitare un paradosso, con la riforma del titolo quinto, in certi ambiti l'autonomia delle regioni ordinarie risultava maggiore di quella delle regioni a statuto speciale. A questo scopo, la legge costituzionale numero 3 del 2001, che ha modificato il titolo quinto della Costituzione, ha introdotto una norma, l'articolo 10, con cui si fa salva, in ogni caso, per il tramite di una clausola di maggior favore, la possibilità per le regioni ad autonomia speciale di assumere anche quelle maggiori competenze definite dalla Costituzione, così come modificata nel 2001. Di conseguenza, le regioni a statuto speciale vengono ad assumere nuove competenze, prima non previste, che possono essere di tipo o concorrente, ad esempio l'ordinamento delle comunicazioni o il settore dell'energia, oppure possono ampliare competenze che già avevano, innalzando da una potestà concorrente ad una potestà esclusiva competenze che prima già esercitavano, ma in una misura diversa.